Da marzo 2011 ad oggi si contano circa 300.000 morti in Siria. Più di 200.000 sono civili, di cui 19.000 bambini, 18.000 donne e 11.500 morti sotto tortura da parte delle forze governative. 10.000.000 trasfollati e profughi, 6.000.000 all'interno della Siria e 4.000.000 nei paesi limitrofi. Sono il presidente di Onsor Italia, campagna mondiale di sostegno al popolo siriano. Da più di tre anni, con l'associazione Partner Osmei, aiutiamo il popolo siriano tramite missioni all'interno della Siria. Espedizione di materiale di prima necessità. 13 missioni all'interno del territorio siriano, 62 ambulanze cariche di medicinali e attrezzature sanitarie, un autobus per disabili e migliaia di pacchi alimentari, 12 container carichi di vestiti, scarpe, apparecchiature mediche ed ospedaliere. La nostra gioia più grande? Migliaia di scatoli di giochi e di materiale scolastico. Attraverso il progetto Child Again, dedicato interamente ai bambini siriani. Tutto questo grazie al tuo contributo, al tuo dono, al tuo sostegno. Fai la tua donazione e aiutaci ad aiutare chi ha veramente bisogno. Onsor Italia farà arrivare il tuo aiuto senza trattenere alcun costo. Dona tramite bonifico bancario o Paypal. Per maggiori informazioni, visita il sito internet www.onsor.it Grazie a tutti. Grazie. Ta parte del popolo siriano. Grazie a tutti.